per alpina.it il tg della sera una buona serata benvenuti apriamo con la cronaca una ragazza di 29 anni è sparita da casa senza dare più notizie all'allarme nella tarda mattinata di oggi a gavirate in aviale dello sport è stato allestito il campo base per le ricerche per ritrovarla è stato attivato il piano provinciale sul posto è stata allestita l'unità di crisi locale stanno operando gli specialisti dei vigili del fuoco della tassa del nucleo saf una squadra di terra e i volontari della protezione civile al momento però non si hanno notizie i carabinieri della compagnia di busto arsizio hanno arrestato un 28enne alluanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente l'uomo diretto da cardano al campo verso il centro di busto è stato intercettato da una pattuglia del nucleo operativo radiomobile fermato per un controllo sono stati rinvenuti in auto 70 mila euro in contanti e poi grazie al fiuto della cane antidroga kevin i militari che hanno notato hanno capito che in quell'auto era stata trasportata della droga infatti la perquisizione è stata estesa a due abitazioni in uso all'uomo e ha permesso di rinvenire quasi una chilo e mezzo di cocaina e 3 kg 400 grammi di hashish oltre a bilancini materiale per il confezionamento e 23 mila euro in contanti la droga se rivenduta avrebbe fruttato più di 200 mila euro l'uomo è in carcere a busto arsizio lavoro iniziativa pacifica dei dipendenti della gianetti ruote per sensibilizzare alla crisi della loro azienda in concomitanza con l'incontro sul futuro di questa storica realtà economica industriale fondata a saronno nel 1880 incontro che avverrà nella sede di assolombarda a milano i dipendenti hanno invaso la saronno monza questa mattina alle 10 e 45 sono arrivati a piedi dal presidio di fronte alla fabbrica le via a stabilimenti a ceriano laghetto per alcune decine di minuti si sono fermati all'altezza di solaro con bandiere e striscioni il traffico è rimasto momentaneamente bloccato ricordiamo che lo scorso 3 luglio tutti i 152 addetti avevano ricevuto la notifica dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo a seguito della decisione dell'attuale proprietà un fondo di investimento tedesco di chiudere lo stabilimento nei giorni scorsi i sindacati avevano chiesto l'annullamento dei licenziamenti e ottenuto l'apertura delle trattative con la direzione siamo al capitolo covid calano i ricoverati e nessun decesso oggi in lombardia ma la guardia rimane alta anche perché l'indice è sopra l'1 per cento il dato odierno è 1,2 per cento con 420 positivi a fronte di 34.930 tamponi in terapia intensiva ci sono 32 pazienti tre in meno rispetto a ieri nei riparti non di terapia intensiva calo di otto pazienti siamo a 123 discorso provincia varese al quarto posto con 30 nuovi contagi al primo milano con 151 politica maria chiara gadda coordinatrice di italia vive in lombardia ha spiegato oggi a prealpina posizione strategie e programma del suo partito in particolare in relazione alle prossime elezioni comunali che si terranno a varese e busto arsizio le priorità ha spiegato gadda sono legate ai progetti che sposano il territorio l'ampia intervista verrà proposta dall'edizione cartacea di prealpina in edicola domani giovedì 15 luglio in chiusura lo sport atletica leggera spedizione varesina ai campionati europei under 20 appunto di atletica in programma da domani a domenica a tallin in estonia riflettori puntati sugli sprinter della osa saronno filippo cappelletti ed edo argo ed edoardo luraschi al via anche la castellanzese ludovica galuppi alla manifestazione continentale parteciperanno inoltre l'ostacolista dell'osa saronno giorgia marcomin e il tandem della nuova atletica varese composto da vittoria di dato nella marcia e giulia gelmotto nell'asta a tallin di infine pure marta amani di villa cortese fresca campionessa d'italia lieve nel salto in lungo bene con l'atletica si chiude l'edizione serale del tg di prealpina punto it appuntamento a domani a tutte a tutti l'augurio di una serena serata